All'indomani della sonora bocciatura di Piazza Affari alla quotazione della Popolare di Vicenza, i sindacati intervengono in difesa dei 5.800 dipendenti del gruppo e delle migliaia di soci e clienti della banca e chiedono al Fondo Atlante, nuovo proprietario con il 99% in passa delle quote, un confronto per il rilancio della BPV. FIRST, CISL, FISAC, CGL e UNISIN sottolineano che i dipendenti hanno gestito con professionalità e spirito di appartenenza e il rapporto quotidiano con quella parte di clientela che ha continuato a credere nell'istituto a dispetto del linciaggio mediatico di cui da mesi il gruppo è vittima. I colleghi di Cari Prato ieri e di Banca Popolare di Vicenza oggi hanno retto il colpo senza premi e prebende, mettendoci sempre la faccia. I lavoratori hanno fatto certamente il loro dovere, ma si può dire lo stesso dei banchieri, dei manager strapagati che hanno gestito prima e che gestiscono adesso questo gruppo? La risposta, continuano i sindacati, è tristemente semplice, no. Critiche al vecchio management accusato di non aver dato ascolto al sindacato etichettandolo come un'organizzazione che osava sputare nel piatto in cui mangiava e critiche all'attuale management che si è presentato come salvatore della patria e che al lavoro ancora incompiuto ha riscosso una buona entrata milionaria avendo una sola mission, convincere investitori di tutto il mondo a credere nel rilancio del gruppo e il risultato lo conoscono anche i sassi. Critiche, per finire, anche alla nuova proprietà, che stando alle dichiarazioni del presidente della società di gestione del risparmio che gestisce il Fondo Atlante, intende prendere, vendere e spaccare il gruppo con termini più consoni a un'operazione di macelleria che di rilancio della vita e del benessere di dipendenti, soci e clienti. CGL, CISL e Unisin non mancano di sottolineare che le colpe dei manager ricadono sui clienti e sui dipendenti, mentre in altri paesi, in primis gli Stati Uniti, quando i manager si rendono responsabili di questi disastri, rispondono penalmente e duramente in tempi brevi e con pene certe.